Ciao bambini! Oggi vi voglio raccontare una favola. Si chiama La cicala e la formica. C'era una volta un'estate calda calda e una cicala a cui non piaceva né sudare né far fatica. L'unica cosa che le piaceva fare tanto era cantare tutto il giorno. Sotto il ramo dell'albero dove stava sdraiata, bella comoda, passava avanti e indietro sotto di lei una formica. Questa formica era tutta innaffarata a portare sulla schiena un sacco di cose, pezzetti di cibo, sassolini, legnetti. La cicala però, vedendo quanto era sudata la formica, iniziò a prenderla in giro. Vieni quassù con me, signora formica, fa più fresco e mentre ti riposi cantiamo insieme una bella canzoncina. E, dicendo così, iniziò a cantare. La formica le rispose, grazie mille per l'invito, signora cicala, ma io sono molto indaffarata a mettere via provviste per l'inverno e a sistemare la mia casetta per proteggermi dal freddo. E la cicala, ma l'estate è ancora lunga e l'inverno ancora lontano, non preoccuparti adesso, ci sarà tempo più avanti per mettere via le provviste. La formica, però, scosse un po' la testa e continuò il suo lavoro, senza più badare alla cicala. La cicala le disse, fai come muoi, formica mia, io intanto mi godo questa meravigliosa giornata, standomene qui rilassata a riposare. E la cicala riprese a cantare un'altra bella canzone. Ma i giorni e poi i mesi passarono veloci, ed ecco che puntuale arrivò l'inverno, col suo freddo e col suo ghiaccio. La cicala vagava per i campi e i prati, recuperando quella qualcosa da mangiare e riparandosi dal freddo dove capitava. Vagando, vagando, una sera, in cui il buio era sceso molto presto, incontrò una piccola casetta con una finestrella illuminata. La cicala aveva tanta, tanta fame e tanto, tanto freddo, così bussò alla porta. La porta si aprì e uscì la formica. Quella era la sua casetta, costruita con fatica, durante tutta l'estate. Dall'interno si sentiva arrivare un bel calduccio e un odorino di cibo molto invitante. Buonasera, signora cicala, cosa ti porta qui da me? Buonasera, signora formica, rispose tutta infreddolita la cicala, tremando, tremando nel leggero cappottino che aveva addosso. Ho freddo, ho fame e non ho un tetto dove passare la notte. La formica guardò la cicala con compassione. Ah, signora cicala, come ricordo bene le carde giornate d'estate in cui, mentre io faticavo per mettere via porviste e costruirmi una casa, tu, beata sul tuo ramo al fresco e all'ombra, cantavi, cantavi e cantavi. Beh, facciamo così. Entra. Per questa volta ti aiuterò e ti darò da mangiare e un letto per dormire. Tu però prometti che la prossima estate mi aiuterai a far provviste. La cicala, imparata la lezione, promise che avrebbe fatto la brava e ringraziò di cuore la formica per l'aiuto. Ecco, bimbi, la storia è questa ed è finita. Che cosa abbiamo imparato? Eh sì, abbiamo imparato che chi non fa nulla non ottiene niente. È per questo che bisogna impegnarsi. Ciao ciao!